Oh, 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 yeah! Oh, I thank you Can I follow? Questa è la console più ambita delle isole Ole, Vincenzo! Quest'anno il sound è selezionato, è molto deep, molto deep house. La selezione è ampia perché noi partiamo dall'aperitivo, fino, praticamente, continuiamo fino alla sera, e quindi cerchiamo un po' di accontentare tutto. Il brano che più ha rappresentato quest'estate a Raia di Panarea. I follow the river. Devo dire Gianluca che queste isole Ole ti sono proprio piaciute dalla stiaggia di Lipari a Raia di Panarea. Per me è la prima volta che vengo nelle isole Ole, e posso dire che sono rimasto meravigliato. Sono belle, bella gente, molto accogliente, molto pulite. È un mare bellissimo. Marco, ben trovato, Raia di Panarea, una qualità tutta firmata, isola di Panarea. Il Raia ha un fascino unico, unico lo dicono tutti. Grazie a Dio ogni anno torno qua, con grande entusiasmo. Mia mamma è di Lipari, il Raia ha una marcia in più. Il cliente, quando vengo a Nocuà, se vuole a non sentire al loro hallo. No li diamo al massimo servizio. E il vostro sorriso. Il nostro sorriso. Grazie a Dio ogni anno, perché questo è un luogo fantastico, questo è un luogo mágico. Grazie a Dio ogni anno.